Da poco finito il match Busca-Carignano, un 2-2, che partita è stata? Eh, partita complicata, siamo partiti male noi, come approccio alla partita, infatti ci hanno messo subito sotto e è arrivato l'1-0 loro, poi siamo stati bravi a reagire, abbiamo giocato per mezz'ora, un buon calcio creando abbastanza, tante occasioni, sono arrivati due gol, siamo andati in vantaggio, peccato un po' di ingenuità da parte nostra, perdendo palla a metà campo all'ultimo minuto del primo tempo e ci hanno fatto il 2-2 e poi siamo andati negli spogliatoi sul 2-2 e la partita è poi finita così. Il secondo tempo abbiamo ancora creato, abbiamo avuto occasioni, l'arbitro ha fermato tante volte il gioco, falli e la partita siamo andati a perdere. Ci teniamo questo risultato, siamo riusciti a segnare a una squadra che non aveva ancora preso gol e andiamo avanti, la strada è giusta e la squadra sta rispondendo bene, soprattutto i giovani stanno dando delle ottime prestazioni, quindi siamo contenti. Bicchiere mezzo pieno, ho visto anche la sfortuna nel finale. Sì, a vedere alla fine bicchiere mezzo pieno, il portiere ha fatto delle grandi parate alla fine e ha salvato il loro risultato e è finita 2-2, ma ci teniamo a questo punto, anche se forse meritavamo qualcosa in più a vedere tutte le occasioni alla fine, poi comunque erano sempre nella loro area e vota e risposta, poi non è entrata e è finita così. Prossime gare con quale testa? Con questa testa, perché da come abbiamo iniziato la squadra è cambiata tanto rispetto all'anno scorso, siamo giovani, anche se si va a vedere l'età media è molto bassa, anche perché come vecchi ci siamo solo più io, Gozzo e Rosso, che comunque siamo gente che ha neanche 30 anni e tutti gli altri sono ragazzi di 20, 22, 18 anni. Possiamo solo migliorare, ma la testa è quella giusta e se continuiamo così ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Dove può arrivare questo Busca? Questo Busca secondo me ora è presto per dirlo, ma se continuiamo partita dopo partita e a giocare come stiamo giocando, con la testa giusta, può ottenere ottimi risultati. Ora è presto per darci degli obiettivi, noi guardiamo partita dopo partita e poi vedremo alla fine dove saremo. Grazie.